messaggio di san michele arcangelo dato al fondatore dell'ordine romano di maria regina di francia 16 luglio 2021 nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen il fondatore durante la preghiera ho visto san michele arcangelo indossare lo scaporara dell'ordine romano mi ha mostrato la siria coperta di sangue mio fedele strumento la siria martirizzata sfugge ancora alla vista degli uomini eppure la feroce repressione del suo leader contro il suo popolo sta crescendo quest'uomo assetato di sangue esprime sempre il potere nella tirannia l'onipotente ascolta il grido del popolo siriano che si dispera di fronte alle avversità e sfugge davanti all'atrocità ma si prepara un grande aiuto per l'amata siria anche se questo aiuto sembra ancora lontano il tempo di attesa e purificazione il sangue dei martiri non è ignorato la risposta si troverà nelle profezie che si attueranno con la fine di questo governo la liberazione dopo questa solitudine infernale verrà dalla pietra posta dall'ordine romano la mano divina sulle persone sofferenti non appare ancora come protettiva gli occhi accecati soffriranno quando il grande segno nel cuore di una notte oscura illumina la terra di siria mio fedele strumento la siria insanguinata non è una terra silenziosa urla di dolore dovete sostenerla con le vostre preghiere le vostre sofferenze la ricostruzione della siria sarà necessaria dopo un periodo di transizione nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo grazie 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 grazie